No, devi solo andartene a fare in culo, stronzo. Guarda se riesci a farglielo prendere nel culo. No, Bandecchi, per favore. Testa di cazzo. Non possiamo cominciare così, Bandecchi. Ma che non possiamo iniziare così? Qual è il problema? No, che lei si esprime male. Dimmi, amore mio, qual è il tuo problema? Lei ha già detto delle frasi in consiglio comunale che sono irricevibili. No, ecco, vede? Testa di cazzo. La deve smettere di parlare così. Ma cosa? Io ne ribadisco. Non deve ribadire. L'istinto naturale del maschio. Ma cosa c'è? Bene, ma scusa, forse il maschio non tende a guardare il culo di una donna e se riesce se la tromba pure. Ma perché dico? Alla missionaria, alla pecora, con sopra lei. Ma evidentemente, al posto del culo delle donne, lei forse preferisce guardare i carotoni dei giocatori di rugby. Ma a parte che sarebbe che fosse, qual è il problema? Va bene, segue il suo istinto da procetto. Ma perché? Ma va bene, sempre l'istinto è. Ma la volgarità... C'è chi piace la figa e chi è il cazzo. Ma perché? Ma non può spiegarsi così. Le piace il carotone. L'importante è che se riceve un no da un giocatore di rugby, poi non si attacca ugualmente al carotone. Non è ricevibile questo tipo di... La violenza! Sì. Mai. Ma anche quella verbale, capisci? E come alternativa popolare, alternativa popolare non sarà mai un partito equilibrato. Come no? Voleva dire che è un partito equilibrato. Lo vuol dire modellato, va bene, lei lo sa dire equilibrato. Sì. Lei ne piace stare in equilibrio. Ma l'ho solo corretta. La prova è stare in equilibrio su sto cazzo. No, ma scusi, ma lo... Non ce lo puoi fare. Ma non può. Perché se me lo scrollo... Troppo violento. Ma cosa dice? Perché è un cazzo grande. Va bene, va bene, va bene. Ma non è una colpa essere superdotato. Ma chi se ne frega? Certi partiti, no? Uno vale uno. Sì, va bene. No. Forse è l'inizio, ma quando sarò presidente del Consiglio... Speriamo di no, guardi. Io sarò l'unico uno. Come l'unico uno? E gli altri rimarranno piccoli e checchette di merda. Ma no... In attesa che la suola delle mie scarpe faccia diventare inutili strisce di merda. Ma capisce che non ci si può esprimere così. È un politico... Quando la mia faccia da presidente del Consiglio, cazzo, sarà raffigurata su tutte le monete da due euro. Speriamo mai. E l'Europa ci costringerà a seguire la sua putza e nade. Va bene. Facendoci comprare cazzo quei fottuti pomodorini cinesi. Abbiamo capito la tacca di bro. Che non sanno di una beata, amico. Ma perché tutta sta violenza verbale? Tutto il mondo dovrebbe mangiarsi i nostri di pomodori. Ma questo va bene. Io mi incazzo. Ho capito. L'abbiamo capito, guarda. Però andrò dalla Wunderlein con estrema gentilezza, con carineria, e le chiederò, senti Wunderlein che andrebbe di diventare la parte zuccherata del mio ciuppa-ciuppa. Ma no, 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 no. Questo è il ciuppa-ciuppa. Sì, no, l'abbiamo capito. Questa è la Wunderlein che è la parte zuccherata e questo è il mio bastoncino che le si va a incastrare lì. No, la prego, Bandecchi. Ma no, ma lo dico. Non puoi dire queste cose. Lo posso dire, lo rivendico. No, non deve. Perché la Wunderlein ha due possibilità. O accoglie il mio bastoncino. No, no, basta, metta via. Godendo e rinsavisce oppure dice no. Cosa? L'europeo continuiamo a rimanere rincoglioniti, diventando la parte zuccherata del ciuppa-ciuppa dei cinesi, che ce lo mettono nel culo. No, 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 Bandecchi. E' per questo che serve una forza come alternativa popolare, che con la sua forza tiene separate la destra e la sinistra, con muscoli grandi, cazzo, sfottuti podietti cinesi di merda. Ovviamente che la violenza non va bene. Si è anche staccato il simbolo frontale. Lei non può. Col simbolo. Ti piace il simbolo? Sì, è carino. Il simbolo è carino. Ah, ti piace? Sì, è carino. Credevo che ti piacesse il carotone dei giocatori di rugby. Invece non solo il cazzo, ti piace anche il simbolo. La smetta, la smetta. Questo. È carino, è un cuore, no? Questo non è un cuore, coglione, è un mulare. Cosa? Il mulare che ti farò saltare a te tutti i poledici in Europa. Ma non si può. Che continueranno a leccare il culo ai cazzo di un sicilio. Grazie a tutti.